Prima vendevano frutta ai loro clienti e poi li rapinavano. Era il piano escogitato da due presunti venditori ambulanti, Alfonso Romano, trentenne con precedenti penali per furto e minaccia, e Antonio Afelba, 25 anni, incensurato. Entrambi originari di Acerra in Campania, sono stati arrestati dai carabinieri di Pesaro con l'accusa di aver rapinato, nell'aprile scorso, un operaio pesarese di 48 anni in via Ermada, vicino alla piscina comunale del capoluogo. I due avrebbero indotto la vittima a comprare delle mele, per poi attendere che volgesse le spalle, aggredirlo e strappargli il borsello dove teneva i soldi, circa 200 euro, oltre ad uno smartphone e ad una fotocamera digitale. L'operaio aveva tentato in vano di fermare la Renault Kangoo Bianca, su cui i due viaggiavano, ed era stato trascinato per alcune decine di metri e colpito con violenza sulle mani. Alla fine aveva dovuto mollare la presa ed era caduto a terra, riportando escoriazioni alle braccia e alle gambe, che lo avevano costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Questo non è stato l'unico episodio, ma i veventi, infatti, agivano anche in Emilia Romagna e in Toscana. Questo è il fenomeno che, tutto sommato, noi riscontriamo qui in provincia, che è proprio il fenomeno del pendolarismo criminale. Spesso e volentieri i fenomeni criminosi con i quali ci confrontiamo, che sono quelli legati ai furti, in particolar modo, ciò che affligge la provincia sono proprio legati a questo fenomeno, cioè pendolari del crimine che arrivano in provincia, consumano il delitto e vanno via. Le forze dell'ordine hanno individuato i rapinatori, equiparando questo ad altri episodi simili accaduti in precedenza, ma anche grazie ad un attento identikit, che descriveva il 25enne come un giovane con accento partenopeo e con un'evidente menomazione al braccio destro, un dettaglio che non è sfuggito alla vittima. Arrestati nelle loro abitazioni ad Afragola, in provincia di Napoli, ora Romano si trova in carcere a Poggio Reale, mentre a Felba è agli arresti domiciliari.